buongiorno amici di ciocomo eccoci qui oggi siamo in via milano la conoscete praticamente tutti è una delle arterie principali di accesso alla città proprio fuori dalle mura della città murata via milano però non è sempre stata come la vedete oggi fu infatti nel 1812 che venne ridisegnata finché linea retta si arrivasse da san bartolomeo direttamente a portatorre passando ovviamente da piazza vittoria ciao francesca mi trovo in piazza vittoria al termine del burdrizzo a come una bella giornata e continuerà così anche nel fine settimana infatti tra sabato e domenica ci saranno due giornate all'insegna del bel tempo con temperature per il momento ancora comprese tra i 10 e 12 gradi dei valori massimi le minime attorno ai tre gradi ma l'italia centro meridionale in questo momento è investita da un'ondata di maltempo che ha portato piogge rovesce e neve in abbondanza sugli appennini e da tenere sotto controllo poi il fine mese perché arriverà l'inverno dopo un autunno che si è protratto oltremodo eccoci di nuovo qui all'angolo dedicato ai proverbi comaschi mi trovo in compagnia di rossella che però è di napoli ciao rossella mi leggi il proverbio di quest'oggi perdonate l'accento un pre per campanile una donna per camin che significa al prete il campanile alla donna il cammino cioè la casa rossella sei stata promossa un saluto agli amici di ciao come mi fai un saluto ciao 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 ciao